Ci tengo, vogliamo dire forse domani è un giorno importante per Tatiana, quindi speriamo che questa vittoria gli possa dare forza, saremo tutti con lei, qua si parla di vincere la Coppa Davis, sì che è bello, si fa la storia, siamo tutti contenti, ma quello che conta nella vita è totalmente qualcos'altro, quindi dobbiamo sentirci molto fortunati di essere in questa posizione in cui siamo e ovviamente ripeto, saremo tutti con lei. Sì, Yannick come è abituato a fare, gioca d'anticipo, però mi sento anch'io di dover per dire due parole proprio su Tati, perché io e lei dividiamo gioie e dolori di questo ruolo meraviglioso, quindi ci siamo sempre iscritti, non ho mai visto così tanto tennis a casa come durante la Billie Jean King Cup e ci sta seguendo ogni giorno, ci scriviamo praticamente ogni giorno, quindi sì, è un grosso in bocca al lupo, va a mancati.